Non si ferma l'onda lunga della solidarietà nei confronti dello sport aquilano. Nell'immediato post terremoto nella città di Rovigo e altri comuni del Polesine furono raccolti 50.000 euro destinati alla società Old Rugby L'Aquila per la costruzione di un campo da rugby a roio. Un progetto forse troppo ambizioso, che con i fondi a disposizione forse si sarebbe potuto solo iniziare e che difficilmente sarebbe stato completato. Per questo la donazione è stata passata, proprio come nella pallovale, a chi può andare a meta. La Old L'Aquila Rugby ha ceduto i 50.000 euro alla polisportiva L'Aquila Rugby che li utilizzerà per costruire una tenso struttura nel complesso sportivo di Centico Lella. A disposizione di giovani regbisti e sportivi che quotidianamente frequentano gli impianti. Una bella storia di solidarietà per incentivare lo sport in una città che ha sempre più bisogno di spazi di aggregazione per i giovani. Per la realizzazione, cioè per la messa in atto del nostro progetto che è quello di completare le attrezzature del complesso di Centico Lella con una palestra destinata ai giovani regbisti e non solo naturalmente. A chi la vorrà venire ad utilizzare. Questa decisione è scaturita dal fatto che la nostra amministrazione comunale dopo sei anni non aveva sciolto la nostra richiesta di un cambio di destinazione d'uso di quei terreni che avevamo opzionato sul roio. Per cui dopo sei anni anche gli amici di Rovigo chiedevano la sistemazione di questa loro donazione e abbiamo scelto insieme a loro donarla a chi da tempo, dalla storia del rugby di questa città, si occupa di giovani e quindi donarla alla polisportiva perché continuasse in quell'opera di formazione dei giovani aguilani.